Buongiorno a tutti, IASH Italia è una digital factory italiana e siamo qui a Didacta oggi per presentare i nostri prodotti dedicati appunto al mondo educational. Potete vedere qui da noi al nostro stand soluzioni come il nostro tavolo interattivo, 43 pollici, una soluzione dedicata e adeguata al mondo educational non solo per l'infanzia ma fino alle elementari e alle medie. Una soluzione regolabile, l'unica soluzione regolabile in altezza da 51 centimetri a 74 centimetri. Altre soluzioni che noi presentiamo sono le interactive display sempre per il mondo educational che vanno dai tagli di 65 pollici 75, 86 o 98. soluzioni che naturalmente possono collochiare fra loro, permettono di creare una multimedialità, un trasferimento dei dati e un utilizzo del tocco per poter creare in un'aula o comunque all'interno di una struttura scolastica un mondo multimediale utile non solo per gli studenti ma anche per gli insegnanti. Il tavolo ad esempio è un punto di riferimento per i ragazzi nel girare attorno per lavorarci insieme e in gruppo ma anche lo stesso insegnante sentirsi parte di questo gruppo. Soluzioni che potete trovare attraverso i nostri rivenditori presenti in tutta Italia a cui potete chiedere sia le informazioni che le quotazioni dei prodotti. Yashi naturalmente non è solo questo, è un mondo informatico a 360 gradi con altre soluzioni come notebook dalla cover personalizzata con il proprio logo, totem, soluzioni personal computer e workstation, mini pc e anche sistemi di controllo di presenza.